ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di chiamate horror oggi andremo a chiamare il numero e allora numero che praticamente riguarderebbe il sosia doppel ganger praticamente questo numero deve essere il contatto del mio me alternativo il nome sono due c'è sia la personalmente col numero straniero che è quello normale ovviamente approviamo prima quello normale poi quello che dovrebbe essere col numero straniero e allora il numero è 909 390 000 no 0 0 0 3 quindi 9 0 9 3 9 0 0 0 0 3 faccio vedere qua anche con video qua c'è il numero andiamo a chiamare vediamo se dice inesistente funziona il numero che hai composto è inesistente ok andiamo andiamo a provare adesso e aspettate che non mettiamo a fuoco non so se abbiamo messo fuoco che si è messo fuoco adesso andiamo a chiamare lo stesso numero con prefisso straniero e allora il numero è più 6 6 non so se è 9 0 9 3 9 0 0 0 0 0 0 3 quindi più 6 6 9 0 9 3 9 0 0 0 0 0 3 ok questo è il numero vediamo se ho scritto correttamente faccio vedere che questo è il numero vediamo se questo invece va in questo modo mi dice sorri non mi ha quasi soldi no e allora anche se non vedete acqua in all schermo mi provo a chiamare sia il quello di prima che questo non mi ha preso nessuno in due casi i soldi quindi voglio riprovare in tutti i due casi di nuovo il numero che hai composto è inesistente il numero che questo non va e vogliamo guardarlo Mi risponde tipo in inglese In qualche modo è come se mi stia detto Che praticamente Mi ha messo a fuoco Nel tanto controllo Scusate ma All'inizio è che non mi mette a fuoco Questa fotocamera C'è solo dall'oponino E dicevo Mi risponde in inglese E penso che dire comunque Che il numero tipo non è più disponibile Non esiste più Quindi niente Questo video che vi cerco Non è successo nulla Anche in questo caso Il prossimo numero mi preoccupa Qua del prossimo video Perché se funziona Quindi cosa che potete ritrovare Mi riuscire a casa Oppure non lo so cosa In ogni caso Niente Non è successo nulla Se il video vi è piaciuto Vi invito a lasciare un mi piace E noi ci vediamo Alla prossima Ciao